vittoria monella vuole distruggere la nuova casa infatti prende tante cose e le mette in giro fedez cerca di convincere di metterlo a posto no mettilo via no mettilo via non sto ridendo mettilo via vittoria ok ai tre secondi ti faccio il solletico 1 2 3 ti faccio il solletico mettilo via no no dai se non funziona nemmeno il solletico non so tre secondi per metterlo io ti faccio il solletico 1 allora mettilo via 1 e allora mettilo via vai a metterlo via no vittoria niente da fare vittoria non vuole mettere a posto nulla e fedez cerca di convincerla col solletico ma non ci riesce